Allora ragazzi, una bellissima prestazione, ma il risultato è una sconfitta, come mai? Sarà perché sono i Divin? La partita è stata così, praticamente noi eravamo messi bene in campo, poi il fatto che l'avversario erano i Divin nella prima squadra in classifica, diciamo che ci ha stimolato molto, è piaciuto benissimo direi, non avevo mai visto una partita così bella da parte della nostra squadra, era mio fratello che è tornato, tu fratello che è tornato, tutti che giravano con me, il Giorgio, Saracinesca, abbiamo retto bene, abbiamo pure pareggiato. Ma come mai questa sconfitta? Perché, prego, parla al vice, perché sono più fuori classe, ragazzi che fanno fare altre qualità così, allora manca di esperienze? Eh sì, probabilmente qualcosina in più, ci vorrebbe. E poi ne abbiamo retto il rito, perché nei primi 15 minuti abbiamo giocato bene. Direi meglio, però poi non ne abbiamo retto più, anche se è stata combattuta la partita. Guardiamo ora al futuro. Dobbiamo vincere, dobbiamo riprenderci, perché dobbiamo confermare questa zona playoff. Eh, il prossimo turno avete i Baralba. Eh, è un'altra partita bella roba. Tosta che oggi hanno perso malamente contro le Oncomparta. È vero, li ho commentati io. Grazie a una grandissima prestazione, però penso che alla prossima torneranno a farci vedere qualcosa di bello, anche perché devono difendersi da noi, arriviamo. Allora, promettete spettacolo. Eh, certamente. Se giochiamo così, spettacolo sempre. Va bene ragazzi, allora alla prossima. Alla prossima. Ciao ciao, ciao ciao.